La montagna Gardesanne è questo bellissimo posto dove ci troviamo, il Monte Baldo, considerato il giardino d'Europa, che si trova proprio sopra il lago di Garda. È un posto dove ti innamori, io fin da piccolo ho sognato di vivere sul Monte Baldo e di amarlo e finalmente ci sono riuscito, è un posto che ti dà molte emozioni, ti fa stare in mezzo alla natura e ti fa mirare dei panorami fantastici. Quando uno viene qua deve provare intanto la sensazione di vivere, di capire bene dove viviamo, di stare in mezzo alla natura e di fare una giornata diversa fuori dagli schemi. Questa giornata si può vivere partendo a piedi da diversi percorsi, si può partire da Spiazzi di Caprino Veronese, si può partire da Prada di Brenzone oppure partire dalle Due Pozze, sono dei percorsi adatti a tutti i tipi di famiglie, bambini e in un'ora e mezza, massimo due ore, si raggiunge il Monte Baldo. Possiamo dire che questo escursionismo integra anche il lago di Garda, è diventata diciamo una meta molto ambita anche dai tedeschi, la presenza è molto importante sia con le bike, sia con le camminate, sia gente che ci raggiunge col cavallo. Il nuovo turismo visitazionale lento sicuramente è una ottima cosa. A me questo posto dà sinceramente come dicevo prima un sogno che avevo fin da bambino di riuscire a venire sul Monte Baldo, di viverlo pienamente, di scoprirne tutte le ricchezze, le peculiarità, di collaborare con tutte diciamo le attività locali che producono prodotti più tipici del Baldo e scoprirli. E poi la cosa più bella come potete vedere sono queste giornate bellissime che regalano un sacco di emozioni.